Taranto non si ferma, un hashtag che diventa un messaggio positivo lanciato da Confcommercio Taranto. Un invito a ritrovare la serenità attraverso un video postato sulla pagina Facebook dell'Associazione dei Commercianti Ionici, in controtendenza alla negatività del momento, spesso esasperata sui social. Il lavoro, i sogni, i progetti, l'amore, in una parola la vita che va avanti. Con prudenza ma senza allarmismi la nostra Italia saprà uscire da questo momento difficile. È l'invito del Capo dello Stato, un messaggio ad andare avanti vivendo con positività, prestando ovviamente la giusta attenzione e seguendo gli accorgimenti e le disposizioni dettate dagli esperti. Dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande Paese moderno. Abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa benegazione del suo personale a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni. Grazie. 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 Grazie.